Osservata la nascita di un buco nero mai visto prima e inaspettato di massa intermedia. Giorgio Pacifici. Due buchi neri ai confini dell'universo si sono fusi e hanno generato un altro massiccio buco nero da record, grande quanto 142 masse del Sole. Una scoperta rivelata dall'analisi di onde gravitazionali prodotte durante l'evento, colte dagli strumenti interferometri, laigo e virgo, compostazioni anche vicino a Pisa. È la prima volta che si osserva un buco nero di classe intermedia che fa parte di una nuova categoria di oggetti cosmici. Una ricerca effettuata con la collaborazione di un team di scienziati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Gran Sasso Science Institute. La distanza dalla Terra dalla sorgente è stimata in 17 miliardi di anni luce. Lo studio è stato pubblicato su due importanti riviste scientifiche, Astrophysical Journal e Physical Review. Sono in via di realizzazione poi nuovi interferometri come Einstein Telescope e l'ISA che riveleranno tutti i misteri ancora insoluti dei buchi neri, da quelli più piccoli di poche masse solari a quelli vasti, quanto miliardi di soli.